Di nuovo insieme, ben trovati, l'informazione di Sanigallia Web TV, mercoledì 14 di ottobre. Banda del trapano in azione in tre abitazioni. I colpi sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì tra Arcevia e Castellione di Suasa. Con un foro praticato alla finestra tramite un trapano, i ladri sono entrati nel cuore della notte mentre i proprietari dormivano. Per quanto riguarda il furto avvenuto a Castellione di Suasa, la famiglia aveva già fornito ai carabinieri della compagnia di Senigallia l'ammontare del bottino. Mancavano infatti 300 euro e un telefono cellulare. Ancora da quantificare gli altri. Riprendi a curarti, per favore. Ti chiedo un supplemento di fiducia nelle istituzioni. La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha scritto a Max Fanelli, il malato di SLA di Senigallia, che nei giorni scorsi ha interrotto le cure per protestare contro la mancata approvazione di una legge sul fine vita. Boldrini aveva incontrato a luglio. Sai come la penso a riguardo, scrive oggi il Parlamento, non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità. Voglio testimoniare ancora una volta la mia vicinanza, al mio profondo rispetto per Max Fanelli, che con grande coraggio e determinazione sta affrontando la sua battaglia affinché il Parlamento metta in calendario la discussione sul tema del fine vita. Una battaglia che non bisogna mai dimenticarlo. Max non sta combattendo solo per se stesso, ma per dare senso e significato alla dignità umana. Questo è quello che scrive in una nota Maurizio Mangialardi. In terza commissione consigliare permanente ci si confronta e si approfondisce la mozione Stop TTIP, presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Marco Bozzi, nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Un trattato che poi una volta che passerà in vigore dovrebbe, sulla carta, facilitare questi scambi fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Noi ci siamo accordi che effettivamente questo sembra un quadro rassicurante, però poi non lo è, perché l'armonizzazione tra quello che riguarda un po' l'eliminazione delle barriere non tariffarie significa comunque andare ad un compromesso che praticamente rappresenta un compromesso fra due sistemi molto diversi, gli Stati Uniti che da una parte tutelano più che altro il commercio e l'introduzione dei prodotti, mentre l'Unione Europea che tutela e ha sempre tutelato quello che era il diritto dei consumatori e la sicurezza. Se tu vai a fare un compromesso tra questi due sistemi molto diversi, ovviamente l'Europa dovrà retrocedere dal punto di vista della tutela della sicurezza e questo è un fatto piuttosto preoccupante. Giovedì 15 di agosto alle 21, nella Sala Ciani del Comune di Corinaldo, si riunirà la consulta dell'ambiente del territorio, in una seduta come sempre aperta a tutti i cittadini. Argomento principale dell'Assemblea sarà il nostro territorio con il rapporto dell'Osservatorio Rurale del Paesaggio, che in questi mesi ha analizzato le criticità a seguito delle straordinarie precipitazioni e conseguente dissesto idrogeologico. Secondo appuntamento della rassegna Incontri con la Storia, proposta dall'Associazione di Storia Contemporanea di Senigallia. L'operato dei Carabinieri nel delicatissimo frangente della Resistenza e della Guerra di Liberazione. Presentazione del libro I Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione. Il convegno nasce da un'occasione che erano i 200 anni dell'Arma delle Carabinieri e il settantesimo della Guerra di Liberazione. Nasce anche per desiderio congiunto dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e del Comando Carabinieri Provinciale di Cuneo per ricordare i Carabinieri nella Resistenza e nella lotta di liberazione. L'intento del convegno era quello di scandagliare i vari aspetti della partecipazione dei Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione, andando a evidenziare anche se possibile alcune figure peculiari delle varie aree geografiche d'Italia. Ci sono infatti alcuni interventi dedicati a personaggi marchigiani come anche piemontesi, come anche personaggi del Trentino Alto Adige che aveva una situazione particolare. L'idea era quella di raccontare in sintesi che cos'è stata la Guerra di Liberazione e la Resistenza per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Come è stata difficile la loro scelta, forse più difficile di quella di tanti altri e come hanno saputo portare avanti questo loro compito nella guerra di liberazione e nella Resistenza. Lo street food di Mauro Uliassi sbarca al porto, sarà il suo primo chiosco sempre nella banchina di Ponente come previsto. Dal piano particolareggiato del porto a richiedere la concessione demaniale in comune sta attaccati a Uliassi per l'allestimento di una struttura destinata appunto allo street food. L'ufficio demanio marittimo del comune ha rilasciato la concessione demaniale. La struttura è di 66 metri quadrati, mentre lo spazio totale concesso è di 170 metri quadrati. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è rimandato domani, vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.